Signor Delict, puoi entrare, venga! Venga, può pure venire subito qua. Questo lo stenga da parte perché lo può servire in futuro. Ovvero a gattarsi il culo. Allora, buongiorno signor Delict. Innanzitutto, parliamo della durata del contratto. Cruciale. La durata del contratto. Five years. Comunque lei è giovane, può... Firmi qua per i cinque anni. Molto bene. Ora, ruolo titolare, cruciale, ogni partitale ci deve essere, insieme al signor McGuire e poi un difensore che in futuro cercheremo per fare un attimo un tiro di difesa molto possente. Firmi pure, signor Delict. Certo, poi, parliamo un attimo della clausola. La clausola io la rimuoverei. Parlo io! Lei si faccia cazzi su qua. Io la rimuoverei, la clausola. Così che... Oppure blocchiamo le offer... No, rimuoviamo e basta. Le rimuoviamo così almeno si fa qualche exata si lava di duro. Bene. Poi... Poi... Parliamo un attimo del suo stipendio. 200.000. 150.000 a settimana. Sa? Delict! Sì! Benvenuto alla Fiorentina. Se lei mi stoppa il nino di merda e si metta quello dei viola. Dei viola, di cane, dei viola. Si è la molletta dell'Ajax e si metta questa viola. Viola! Sì! 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 Questa dell'Ajax ha fa' il culo. È viola! Senti i cappellini, la viola. Dio strozzo! Tenga anche il braccialetto della Fiorentina. E io là! Tieni! E... Tenga anche questo. A fine Fountry Shots. Venga quello là che l'ho dato. Della squadra. Fiorentina. Lai non mi sono già solo da Fiorentina. Yes, man. Buon appetito. Buona squadra! Buon Natale! Bene, se lo vada il cazzo. Ora c'è la conferenza stampa. Ci vediamo dopo la conferenza. Ciao! Bye! Signor Delict alla Fiorentina. Ciao, ciao a tutti! Grande Delict! Io ho una domanda, una domanda! Yes! Quali sono le sue prospettive con la Fiorentina? Cosa pensa di fare? Maybe 40 points are enough. Maybe 40 points are enough. Yes! Grande Delict! But... Actually... We... 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 Can do... Ha già fatto conoscenza con qualche giocatore viola? Yes! Con chi? Harry Possente Maguire. Harry! The Mister... Harry! The Mister... Meccano Spectacolo. Si! Mister! Get ready! And... Patrick Couture. Good. Another... Another... No, no, si parla di cazzo. Goodbye! Goodbye! And welcome to Viola! For Viola! Venga, signor Gaurio, venga! Hi! Hi, signor Gaurio, matematics! Hi, Daniela! Hi! E... Allora... Hi! Ti ascele! C'è... Cominciamo subito a parlare del contratto. Allora... Dure sei il contratto. Five years. Yes, possibly. I would... E finiscono a fuori cinque anni. Molto bene. Due. Calatore del contratto. No. Rimossa. Fini? Ultima cosa. Ruolo titolare al posto di... Quel sacco di merda di Benassi. Entra pure. Ultima cosa. Stipendio. Centomila a settimana. Centoventi. Cento... Dieci. Gaurio! Gaurio! E se è così... Gaurio, matematics è un nuovo peggio sulla Fiorentina. Guardate, è in faccia di merda, eh! Gaurio, matematics! Matematics! Sì. Ascolti. Strappo il contratto. Tenga il suo contratto. Qualcosa? Fioretera. Tenga la maglia viola. Si levi questa dell'Everton. Calcolatrice davvero matematica. Si levi la maglietta. Fascia di merda. Gaurio! Tenga la maglietta viola. Madonna buca viola! Cappello di piaccio se lo strocchiare il culo. E si metta... La fascia ho scritto forza Fiorentina. Dianne! Dianne! Forza Fiorentina! Dianne! E tagli anche il cappellino! Stronzo il Dio! E tagli anche la sciarpa della Fiorentina! Dio strozzo! Se vuole c'è anche la mascherina personalizzata. Bene! Sua chance è sua! Arrivederci! Bye! Bye! Ehm... Avanti! Avanti! Siamo di merda? Piacere! Ciao sono Pier... Sono Pierluigi Gollini! Proprio io! Piacere! Il portiere della Franca! No! Sorentina ora! Ancora no? Ancora! Pier Gollo! Quanti anni? Sono 5 anni! 5 anni! Pier Gollo lo vuole a 5! Non va più penna di merda! Ma è fermo qua! Mastighess! Fermi qua per i 5 anni! 5 anni! Con Pier Gollo vi farete! 5 anni con Pier Gollo! Vendevo! Pier Gollo! Di forco però! Pier Gollo! Qua è il ruolo? Titolare Pier Gollo! Titolare? Titolare! Fermi qua! Perfetto! Clausola no! Fermi qua! Rimossa! Clausola deve essere rimossa! E infine? Il dinero! 80.000 a settimana! 80.000 a settimana! 100! 90! 95! 95! A questo punto 100! Per 5.000! Sei ricco e cazzo te ne frega! 1.100! Benvenuto nella C.F. Fiorentina! Grazie! Non esulta come Daniele Fedeio! No! Solo Fredè può esultare così tanto! Mi faccia firmare il contratto però! Fermi qui! Dio stronzo! Fermi qua! Ti argolo! Sì! Sì! bene benvenuta della scienza fiorentina prego allora ho sciarpa? subito? calca ma la roba aia di merda sciico aia di ostrozzo sciico benvenuta nella scienza fiorentina trappi il contratto grazie buona permanenza nella scienza grazie prego signor Rugani venga si allontani da me che nasce al covid no non c'ho più grazie grazie la mascherina sempre aspetti di strunzo di strunzi mi lo dà rà ma lei molto contagio che mi sa che mi fa schifo strunzo proprio nome di Dio stronzo lurido eppure puttana ascolti cinque anni una fermatina prego niente clausola niente clausola ruolo titolare con il passato 100.000 euro al mese 120.000 20.000 20.000 10.000 110.000 120.000 oh quel rotto è con l'arbo di merda dello sciico 115.000 120.000 no 5.000 dovesse arrivare anche a 100 20.000 va bene 120.000 prima un film dio stronzo ci dobbiamo comunque stringere una mano niente dio lurido 6.000 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 7.000 8.000 8.000 Dio Struzzo